Il Rimini torna finalmente a gioire per i tre punti battendo 2-0 Limolese alla Romeo Neri. Segnano Ferrani nel primo tempo e Volpe su rigore nella ripresa. Una buona prestazione dai ragazzi di Martini che vanificano ogni potenziale a fondo del Limolese e si affacciano dalle parti del portiere ospite più volte, facendo tremare anche la traversa con Piccioni. I ragazzi hanno avuto la capacità di ripartire, di farlo nel momento giusto e di fare male. Fare male vuol dire creare occasioni importanti. Siamo qui a parlare di una partita dove i ragazzi hanno dato l'anima, si è visto e credo che questa sia la strada. Martini però pensa già alla gara di Martedì contro la Ternana, perché nonostante questa preziosa vittoria che concede ai Biancorossi di rifiatare e staccare il play-out di 4 punti, il Rimini non può permettersi di abbassare la cresta. Io penso proprio che noi non possiamo gestire niente. Noi ci abbiamo martedì un'altra partita, sabato un'altra partita e quindi questo ci deve alzare le antenne. Limolese che torna a perdere dopo la sconfitta per 2-0 contro il Pordenone del 2 febbraio e rimane ferma a 42 punti, sempre nella parte alta della classifica. Non siamo stati bravi, per demerito nostro sicuramente siamo passati in svantaggio e poi abbiamo un pochino migliorato nel secondo tempo, però non basta.